ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi questa doppia inquadratura penso immaginate perché unboxing ragazzi nuovo unboxing questo cartone mi arriva da ragazzi di acerit mi hanno mandato un bellissimo pacco per fare un per fare un unboxing ragazzi non so se si riesce a guardare che bel cartone guarda che bella presentazione che colori fantastici c'è già il packaging ragazzi mi fa impazzire ve lo dico mamma mia acerit sim racing power up your gear bellissimo spettacolare ragazzi veramente spettacolare quindi ragazzi il modello è acerit gt fenom lo vedete qua e lo vedete anche qua il support center con un qr code apriamo a molto interessante già subito ragazzi abbiamo gli adesivi in nero proprio che richiama questo colore rosso nero predominante di questo gt fenom non non l'avevo visto subito ragazzi e ringrazio andrea d'accordo sono i ragazzi di ragusa che progettano questi volanti e adesso ne parleremo un pochettino una cura magnificale del dettaglio perché guardate qua per la protezione della corona praticamente fatto in modo tale che possa essere protetto durante il trasporto allora subito delle chiavi per montaggio e smontaggio delle viti delle screw per il montaggio questo subito immediatamente ve lo dico per il quick release un cavo usb a quattro poli a spirale per avere estensione perché ovviamente è collegato un usb per l'elettronica e ragazzi veniamo al forte di questo fichissimo auto install ragazzi inglese ovviamente anche in italiano e la parte del download center per l'installazione di questa corona allora questa gt fenom ragazzi allora ragazzi cosa dire di questa corona le prime impressioni sono davvero positive vediamo subito i fori per avvitarli al vostro adattatori da 70 mm è composta da una stampa in vinile personalizzata con il vostro logo e i colori sociali di sim drivers in questo caso qua è anche la possibilità di mettere il vostro numero 10 pulsanti retro illuminati 9 led per gli rpm e poi abbiamo 1 2 e 3 rotary cliccabili più un funky stick qui per la gestione di menu pit stop eccetera molto molto bello mi piace la cura dei dettagli con questo bianco che viene a evidenziare il posizionamento di questi rotary ovviamente qui sopra vanno attaccati gli stickers per personalizzarlo ancora di più e una cosa che sicuramente esalta la qualità di questo prodotto e la piastra in alluminio cnc d'accordo sia quella posteriore che quella anteriore ok tutti i dettagli invece questi che contorno che fanno il contorno ai pulsanti sono di plastica impugnature in poliuretano questa scelta vi fa capire la cura del dettaglio e soprattutto la scelta di qualità dietro abbiamo due paddle con il classico la classica calamita per il richiamo più e una sola leva per la frizione con la classica molla c'è la prima cosa che mi impressiona ragazzi è il sound c'è zero questo questa corona la potete usare di notte non vi sente nessuno molto molto bello mi piacciono veramente le finiture e una cosa sempre per quanto riguarda il dettaglio la cura del dettaglio sono i grip messi al contorno qui dei paddle per evitare di avere uno scivolamento troppo immediato proprio per avere il grip e anche sulla frizione su tutta la parte perché il carbon fiber qui è abbastanza scivoloso nella parte posteriore abbiamo i fori per l'aggancio dei vostri quick release quindi l'adattatore da 70 mm e ovviamente la parte dell'aggancio usb a 4 pin per la parte appunto dell'alimentazione elettronica si gestisce interamente da simab come ormai quasi tutti i dispositivi dove potete regolare insomma i vostri profili e la colorazione dei pulsanti retroilluminati questo gt phenom viene dato già con tutte le istruzioni che potete scaricare tramite un qr code che vi porta direttamente alla pagina di download con tutte le spiegazioni molto semplici di come si carica il profilo e poi ovviamente fare illuminare il vostro bel volantino il diametro è di 29,5 cm per un peso totale di 700 grammi vi ho detto che è leggera ragazzi fantastica veramente ovviamente prende di più di peso quando gli montate sul quick release come tutti gli altri cosa aggiungere ragazzi che è qua bisogna soltanto andare a installarlo e a testarlo e così vi dirò che se ne penso però prima di farlo voglio ringraziare i ragazzi di agelit per avermi dato questa possibilità di testare questo volante in particolare andrea perché è stato gentilissimo con la spedizione è stato veramente a disposizione mi ha dato tutte le informazioni e soprattutto perché mi dà modo di raccontare un po l'aneddoto che sta dietro la creazione di questo volante i ragazzi di agelit l'hanno costruito per divertimento spinti da absolute motorsport un team italiano di sim racing saluto marcello in particolare e quindi hanno detto va bene ok lo facciamo per divertirci perché il loro core business in realtà è fatto di mod per volanti come logitech come trust master dove c'è poca elettronica e però devo dire che hanno avuto ragione ad ascoltare gli absolute motorsport perché già a prima vista mi sembra un ottimo prodotto molto bene equilibrato ve lo dico subito sarà prodotto in serie limitata proprio per la complessità che si ha comunque di fare questo tipo di prodotto diciamo in massa e quindi dovrebbe partire con un prezzo di lancio a 419 euro iva inclusa e sarà lanciato ufficialmente sul sito tra il 18 e il 20 di ottobre prossimo proprio in occasione della fiera del sim racing in germania l'adac ormai la conosciamo tutti quella fiera fantastica spero di andarci anche un giorno quindi ragazzi rimanete sintonizzati se vi è piaciuto questa corona perché sarà presente sul sito penso proprio in quei giorni lì niente se volete maggiori informazioni ragazzi non esitate a contattarmi lasciatemi un commento qui sotto ditemi che cosa ne pensate ovviamente se vi è piaciuto l'unboxing pollice in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo per il test di questa corona da Fabrice è tutto un abbraccio ciao grazie a tutti